La bellezza che salva. Avrebbe potuto essere questo il titolo della mostra che celebra il fashion photographer Norman Parkinson a 30 anni dalla morte. Quasi una passeggiata onirica tra 70 foto che hanno soprattutto donne tra le protagoniste in un mondo di eleganza e stima. 20 anni di moda dal 1948 al 1968. Mi piace far sembrare la gente bella come vuole apparire, anzi con un po' di fortuna anche un pochino meglio. Diceva così l'eccentrico fotografo britannico che ha fissato nei suoi scatti un mondo in trasformazione. Il set è la fondazione Bisazza, spazio dell'azienda vicentina, un tempo dedicato alla produzione e ora riconvertito all'arte. Gli scatti non solo testimoniano il cambiamento durante quei due decenni della moda femminile e dell'estetica, ma raccontano secondo me in una maniera anche molto suggestiva e affascinante il cambiamento della società, il cambiamento dei costumi, del nostro modo di vivere, il modo di atteggiarsi, del viaggiare. Dalle modelle del new look di Christian Dior che nel dopoguerra celebrava l'ultra femminilità, alle ragazze allegre sfrontate della Swinging London di Mary Quant. Passando per le numerosissime foto a Wenda, la moglie e musa ispiratrice, pose diventate mito tanto da essere chiamate parkinsoniane. Quello che Norman Parkinson fotografava per le grandi riviste di moda, da Vogue a Harper Bazaar, non era un modo di vestire, ma una nuova libertà di espressione. Norman Parkinson ha saputo fotografare la moda in una maniera che non era mai stata utilizzata prima. Ha fotografato le modelle nelle città, immerse nella natura, in atteggiamenti molto più naturali e questo per l'epoca era molto innovativo, ma lo è anche adesso. Ha proposto un modo anche di atteggiarsi diverso da quello che si era visto e rappresenta in fondo proprio quello che poi le donne sono state in quegli anni e che quello che poi sono adesso. Probabilmente era il suo modo anche di vedere, di celebrare la donna. Creava come dei quadri, non c'è mai niente nelle sue foto di fuori luogo o sgradevole. C'è sempre una grazia. Oltre a Parkinson sono esposti altri quattro grandi fotografi, tutti con uno sguardo innovativo sulla moda e sul costume dell'epoca. Terence Donovan e Terry O'Neill, inglesi, hanno un approccio informale, addirittura rivoluzionario, nel raccontare l'avanguardia londinese. Milton Green, americano, è passato alla storia per aver realizzato oltre 3000 ritratti di Marilyn Monroe. Il suo connazionale Jerry Schatzberg, l'unico ancora vivente, oltre che regista è autore di iconici ritratti. Glamour, city style, vestiti da sera e molto altro. Composizioni perfette ma non statiche, anzi che trasmettono tanta vita. Difficile farsi rapire da una sola foto in mezzo a tanta varietà e bellezza. Quella che forse sceglierei per me, per portarmi a casa, è quella che si chiama proprio The Art of Travel. Una modella che si avvicina a un aeroplano, che indossa un abito da viaggio con una beauty. Uno stile un po' altero. Mi ricorda un po' Casablanca, ma è sicuramente la foto che mi piace di più, come vorrei essere. Io credo che questo tipo di mostre possano servire per quanto poco, per quello che possiamo a, come si dice in inglese, lift the spirits. Suona come un augurio, a volare alto, sempre, anche senza l'aereo.